Sono stati accolti nell'aula consigliare del Palazzo di Città gli atleti della Nazionale Italiana Special Olympics che dallo scorso 28 ottobre si sono allenati sulla spiaggia di Gela al fine di preparare nel migliore dei modi la partecipazione ai campionati mondiali invernali che si svolgeranno in Austria nel marzo del 2017 nella disciplina della corsa con le racchette da neve. L'iniziativa giolese è stata promossa dalla associazione Orizzonte di Natale Salucci. Stiamo portando uno sport che qua penso non si veda abitualmente sulle spiagge di Gela e devo dire che la risposta sia da parte di chi ci ospita, della popolazione e da parte dei ragazzi soprattutto che si stanno allenando con molta energia e molta voglia è ottima. Abbiamo voluto dare il giusto merito per la fatica che viene fatta per consentire a tutti di dare la possibilità di fare attività fisica, di integrarsi, di crescere, di relazionarsi. Un'attività importante che supera quelle che sono i confini della città di Gela e grazie a questa intensa attività e per il buon lavoro svolto all'interno del nostro territorio dai volontari dell'associazione Orizzonte sono venuti a trovarci la Nazionale Italiana di special Olympics per le racchette da neve che si sta allenando lungo le nostre spiagge per prepararsi per i mondiali che si avranno in Austria quest'inverno. Lo sport come vediamo un'altra volta unifica. Dopo Monica Contraffatto siamo qui per dare la nostra gratitudine e mostrare il nostro orgoglio nei confronti dei campioni attuali di Consuelo Ferrari e Mario Pizzardi. Adesso avremo anche un altro ragazzo di Gela che parteciperà a questi giochi olimpici che si terranno a marzo in Austria nella disciplina corsa con racchette da neve e Mario Palmeri. Il nostro orgoglio è immenso. Crediamo che in queste attività possano dare grande ricchezza alla città di Gela e veramente riuscire a creare una rete affinché queste attività si diffondano sempre di più e più che altro si diffondano anche nel nostro cuore. I ragazzi della Nazionale hanno avuto a disposizione le strutture del Club Vela per momenti di relax, gioco, incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del Presidente Luigi Nastasi. Noi siamo veramente felici di ospitare questi ragazzi e con questo credo che abbiamo vinto una grossa scommessa che abbiamo fatto con Natale Salucci, quindi il responsabile di Orizzonte, l'associazione Orizzonte, lo quale quest'inverno diceva ma ce la facciamo o non ce la facciamo? Noi ce la mettiamo tutta e credo che il Club Vela abbia dato la dimostrazione come un club privato si possa aprire alle proprie strutture per un qualcosa di molto più grande e di molto più importante.